Trucchi a tavola, cioè ci sono dei trucchi che lei insegna ai suoi pazienti per evitare diciamo di innalzare troppo il livello? Dobbiamo sempre ragionare che quando noi mangiamo carboidrati che sono indispensabili nella dieta anche di chi ha il diabete, quello che conta è sì quanti carboidrati vengono ingeriti ma soprattutto la velocità con cui il carboidrato viene trasformato in glucosio nell'intestino poi questo glucosio va nel sangue e a quel punto dobbiamo gestire questo glucosio che va nel sangue più riusciamo a rallentare questo passaggio di glucosio dall'intestino al sangue e più è più facile gestire per il paziente la glicemia mangiare lentamente per esempio oppure anticipare con delle fibre il pasto per questo il dolce si mette alla fine del pasto perché quando il dolce viene ingerito trova lo stomaco già pieno e ci monte molto più tempo a passare nel sangue di quanto invece non sia al termine di un pasto Quindi cominciare con delle verdure per esempio? Cominciare con delle verdure, gli americani non so se lo fanno per il diabete ma mangiano spesso l'insalata prima di iniziare il pasto vero e proprio in parte perché rallenta l'assorbimento del glucosio in parte anche perché rallenta la motilità intestinale quindi dà un senso di repinezza maggiore e teoricamente fa anche mangiare di meno Frutta sì, frutta no? Frutta sì, vale la stessa regola con limitazione ovviamente non si può mangiare tanta frutta è chiaro che non posso mangiarmi 4 kiwi a metà giornata perché ovviamente contengono molto glucosio ma un kiwi al termine del pasto assolutamente sì Grazie a tutti